La situazione è sfuggita di mano, amico. Che diavolo stiamo facendo? Finiamo ciò che abbiamo iniziato, andiamo. Dobbiamo trovare la ragazza. Lo stanno... lo stanno pestando per bene. Beh, se non la troviamo Wade ci aprirà un altro buco del culo. Vai a vedere cosa sa. Già, stiamo facendo a pezzi il posto. Ancora niente. Non preoccuparti. La troveremo, promesso. No, non uccidermi, ti prego. Oh, non lo farò. Non ancora. Vedi cosa riesci a scucirgli. No! Hanno scoperto qualcosa? Non so un cazzo. Sembrerebbe di... Già, sono là dentro da un sacco. Il tipo non è una femminuccia. Odio quando i ragazzini giocano con il cibo. Devo bucare. Il tipo non è un sacco. Ehi, siete riusciti a farvi dire qualcosa? No. Resta al culo. Sì, va bene. Cavolo, hai visto quel tizio di sopra? Piangeva come una ragazzina. Duro, amico, qui la sicurezza fa schifo. Magari era la puttanella che Wade stava cercando. Hai ragione, cazzo. Ma se è così, siamo nei guai. Era una battuta. Sì, sì, capito. Voglio dire, l'ho capita. Chiudi la bocca. Mi stai facendo venire il mal di testa. Bello irritabile, amico. Chi ti ha infilato una croce su per il culo? Lo spirito santo. Ora per piacere chiudi quella cazza. Ora per piacere chiudere i suoi per il culo è il culo. Ma se è così, il culo è questo. Questa è la sua. Vai, cazzo. Mi sono in funzione. Non ci preoccupare, ma è un culo è un culo. Stato, andrò. Ma.. Però va bene. Ma ora per piacere i suoi per il culo è un culo. Ho destinedo un culo è un culo. Non ci preoccupare i suoi per il culo. Non ci preoccupare i suoi per i suoi per il culo. Ok, bene. Ascoltate. Ho appena parlato al telefono. Oh, cavolo. Sì, baby. Merda, sei incazzato. Non lo so. Mi sono abbioccato. Piantala. Se non troviamo quella ragazza, siamo fottuti. Scusa, che hai detto? Ho detto che siamo fottuti. Oh, sì, davvero. E com'è? Perché perdo tempo con te, amico? Tu mi copri le spalle? No, perché sei sempre sballato? Io copro le tue. Sì, sì, certo, certo. Non preoccuparti, amico. Sto bene. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Esatto. Ehi, va a controllare, ti spiace. Ok, ok, Cristo. Era solo un rumore. Ehi! Ehi! Avanti, non sto ridendo. Cosa sto facendo? 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 Ok, ok. Chi è il simpaticone? Ehi, non ci pagano abbastanza per questo Ok 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 Quel rumore non era per niente rassicurante Ehi, forza, va a controllare, che aspetta Ok Ogni minuto lontano da te e dalle tue lamentele è un minuto speso bene Ok, va bene Chi... chi è che sta facendo questo casino, eh? Esigo una risposta Non è per caso l'ho netto di me Non trovo lui Wow Ok Chi è l'imbecille, idiota, cazzone che fa il fur... L'hai sentito, giusto? Ok, allora che ci fai ancora in piedi a trastullarti il pisello? Sai una cosa, ti conviene cambiare tono, ok? Altrimenti, amico, sarà una lunga scarpinata fino a casa Ok, ok, chi è, sì? Oh, merda, mi hai spaventato Ehi, c'è qualcuno? Oh, fai il culo Oh, merda, mi hai spaventato Oh, merda, mi hai spaventato